23 ottobre 1940 Nasce in Brasile Edison Arantes Donasimiento per tutti i Pelé, uno dei più grandi campioni di calcio di tutti i tempi. È l'unico calciatore ad aver vinto tre edizioni dell'allora Coppa Rime con la nazionale brasiliana nel 1958, 1962 e 1970. Il suo gol contro la Svezia nella finale del 1958 è considerato il terzo più grande gol della storia della Coppa del Mondo e primo fra quelli realizzati in una finale di un campionato del mondo. Detiene inoltre il record di reti realizzate in carriera, 1281 in 1363 partite. Nel 1999 viene nominato dalla FIFA calciatore del secolo insieme a Maradona.